Mi chiamo Ip. Oh, non smettere! Spegnilo! E noi siamo la prima famiglia al mondo. I Cruz. Un'altra mattina gloriosa. Papà dice sempre che il branco fa branco. Brava! Laccio di sicurezza. Ora cerchiamo un posto ideale da chiamare casa. Che diavolo è quello? Alla fine del mondo. Beh, io ho chiuso. Meglio che sia tu, miciosauro. Non è strano che questo cibo cresca in file perfettamente? Geniale. Gli uomini delle caverne non si erano istinti anni fa? Noi felici conoscere voi! Grazie. E noi siamo i superior? I su-perior? Con enfasi su super. Quella è la vostra casa! Grandicella, eh? Un'altra ragazza? Sì? Una ragazza... Amica! Non ho mai avuto una ragazza amica prima d'ora! Neanch'io, neanch'io! Che facciamo? Di che cosa parliamo? Che succede alle nostre volte? Che sono così a come? Aaaaaaah! Forse non c'è il posto per i cavernicoli nel mondo moderno. Che problema hai, campione? Questo posto ci sta cambiando. Guy? E Tonko passa troppo tempo alla finestra. No, Douglas, ora ci sono gli uccelli. Ai miei tempi non li guardavamo, li combattevamo! Fammi vivere la mia vita! Cos'è questo segno? È una cicatrice. Ogni segno è un'avventura. Mio padre non sa niente di questa cosa. Wow! Migno nocciolina. Non puoi oltrepassare il muro. No. Questa fattoria è praticamente la tua caverna. Sei proprio come me. Lo vedi quel muro? Sì! Vogliamo scavalcarlo? Sì! No! Torneremo prima che qualcuno se ne accolga. Hai portato Aurora al di là del muro. Ma i superior hanno costruito il muro per un motivo. Oh, poveri noi. L'unico modo per sopravvivere è se il branco fa branco. In un mondo così pericoloso serviva un livello di vita superiore. Che cos'è? Formazione e protezione. È un bel giorno per morire. Ehi, non indominerete mai cosa... Scusa, pensavamo che tu fossi un predatore. Ma è scusarsi per una formazione e protezione. Aspetta un momento. Usi un bradipo come accessorio. Anche io lo uso come accessorio. Lui è laccio. Lei cintola. Uh, la la.